E ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo in questo nuovo video Oggi ragazzi abbiamo sbloccato con le missioni Superman su Fortnite E oggi c'è, no, fa anche una partita con il Superman Però, prima di iniziare il video vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Telegram Christian Fadon, Christian Fadon, su tutti e due Per ragazzi che andate nel negozio oggetti di Fortnite usate il codice Alessandro Ulveo Per ragazzi vi ricordo di lasciare un bel, una bella descrizione e una bella campanellina Io vi lascio al video, buona visione Ok, siamo subito pronto Ragazzi, guardate qua Vado qui, ecco, vabbè questo, ecco qui Claire Kent, poi il simbolo di Superman Identità segreta, quella lì che si trasforma E poi tutte le altre cose Vabbè, andiamo in partita e ci facciamo una partita con Superman Dai ragazzi Scrivete nei commenti che voi Superman già l'avete sbloccato tutto il set Io tutto il set ancora non l'ho sbloccato Devo sblocare ancora quello nero Vabbè, ragazzi ci vuole un pochino per andare in partita Ok, ecco qui ragazzi, Superman su Fortnite Ecco qui ragazzi Tante persone lo aspettavano Da due mesi che dove arriva Superman e oggi è arrivato il momento È arrivato Superman Allora ragazzi, andiamo subito verso il parco pacifico Vabbè, ci sono ieri, però non fa niente Le insegno, andiamo Con Superman Mamma mia ragazzi, abbiamo Superman Eccolo qua, eccolo qua Atteniamo sempre qui sotto Cazza leggendaria ragazzi, cazza leggendaria Abbiamo qua sotto Vai ragazzi Let's go P90 Prendiamo materiale Tutto quanto ragazzi Così vediamo Superman Quanto è breve su Fortnite Sento lo spara anche i nemici Andiamoci Andiamoci Vabbè, uccido Adesso non lo faccio, però Voglio uccidere prima di questi nemici No, vabbè ragazzi Facciamo una cosa Facciamoci subito l'osciglione Ok Ecco, dai Li voglio uccidere Li voglio Ok Vabbè L'altro amico Vabbè Ok, ucciso ragazzi Però no No No, mi devi lasciare Mi deve E basta Mi deve lasciare sto nemico Scusa Sta a stranare ragazzi Io Qualche forza dico nemico Perché lui sbaglio Scusate ragazzi Scusatemi molto Vai Prendiamo tutto questo lutto Leggino Vai, vai Prendiamo tutto Ok Ok Allora Cioè Là ci sono nemici Con la Ferrari Ok 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 Posso manca andare a pusciare Lei sicuro ragazzi La distruggiamo Nemici sotto Dai E dove vai Che pensi Ti lasciavo Dai ragazzi Ragazzoli Dai Distruggiamo anche la gara Dai Ok ragazzi Possiamo anche Andare a pusciare Adesso Let's go Qua c'è il baule Quello ha dato L'urpo Vai dai ragazzi Ok Allora Adesso 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 Vorrei trovare qualche nemico Per pusciare Perché Quando non trovo nemici Mi stufo Allora E con i nemici Sotto Comunque 150 Si provo a fare Un headshot Con la deagle Dai vediamo No Ok Ok Ho tiso Let's go Ok Abbiamo 5 kill 5 kill Total Tutto Ragazzi Che Dede Faremo vittoria Li usci sotto Anche lui ha superman Ah oh no 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 Mi sono sbagliato E' però L'automira Grazie Ucciso Un po' stammato Però Sembra che abbiamo Ucciso Un nemico E noi ci vediamo Anche Dai Questo Diciamo Era un po' Fortuccio Un po' Forte Dai ci sa Ok Ci prendiamo Tutto il lutto Fattico Ok Scillini Ok Come Andiamo Verso Vediamo un po' Un po' Dole Pannacca Dai Tiriamo a cazzo Tiriamoli Puro Ragazzi Che voi Penso Che voi Siete iscritti Al canale E Avete Alzato La campanellina Scrivete Nei commenti Poi Popo Ne penso Che ci sono nemici Sotto Sì Dove Anda Dove Anda Do scappi Dove Se ne scappa Che Penso Se ne va No Lui Non se ne va Io Lo raggiungo Ma dai 30 Ok Ho ucciso Eh no Sei l'abbia del boss Guarda Superman Ciao Super Ragazzi Cazzo 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 No No Eh no Dai ci sono questi alberi Spaccali Ma spachi Questo albero Grazie No 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 Scusa Un nemico Mi dispiace Ok Ucciso Ucciso ragazzi Mamma mia ragazzi Combattiva 8 kg totali Ok Siamo full di legno Let's go Mi salvo un medikit ragazzi Oppure band Ma anche l'avevo visto lo sapete Era uno Va bene Ok nemici l'ho Prendiamo l'astronave No che ho fatto E dai fammi salire Vai Attacchiamolo vai No No Tornare all'isciato Oh no. No, l'ho riusciata, ragazzi. No, da dietro. No. Vabbè, ragazzi, ragazzi, ragazzoli. Non abbiamo vinto manco la partita con Superman, però ci siamo fatti tante kill. Non abbiamo vinto, però, ragazzi, un po' di spiacere, ma va bene, ragazzi, ma va bene, tranquilli. Che questo video vi sia piaciuto. Un like, un'iscrizione al canale e anche, vi ricordo, ragazzi, di lasciare anche la campanellina per non perdere manco un video al canale. Poi andate nel negozio oggetti e usate il codice alzandorveo. Noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Altri live e altri video. Bella, ragazzi. Bella, ragazzoli.